C'è curiosità intorno alle dimissioni del vice sindaco Filippo Sottile. È l'argomento che sta animando i giorni di questa settimana che volge al termine. La vita politica di Barcellona Pozzo di Gotto continua a mostrarsi in fermento. Il vice sindaco l'altro ieri ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Longano. Ha elencato i risultati di due anni e mezzo di amministrazione e in conclusione ha rassegnato le sue dimissioni. Ha spiegato di non poter andare a sinistra insieme a IDR visto il suo credo fondato sulle ragioni della destra storica e ha anche spiegato che al tempo stesso non poteva ritrovarsi a far parte di una giunta municipale in cui è stato indicato come componente da quel gruppo che non ha più fiducia nell'amministrazione Materia. Questo è il riassunto della conferenza stampa. Le dimissioni annunciate però sembra che non siano state ancora formalizzate. Dal canto suo il sindaco Roberto Materia qualche ora dopo la conferenza stampa di Filippo Sottile ha diramato una nota in cui ha respinto fermamente la decisione del suo vice di rimettere il mandato. Non è ipotesi così strana pensare che alla fine il vice sindaco rimarrà al suo posto. Sulla questione si è espresso con forza il movimento Città Aperta che ha ricordato come la città di Barcellona Pozzo di Gotto in questo momento della sua storia meriterebbe una guida salda ed efficace per fronteggiare problemi economici dell'ente comunale che si riverberano, si legge in una nota, sulla vita della città. Città Aperta parla di un teatrino e si augura che abbia al più presto una fine. Grazie a tutti.